ragazzi buongiorno allora oggi giornata dedicata al bilanciere quindi facciamo questo riscaldamento bilanciere vuoto incluso prepariamoci bene e ci vediamo alla forza pericolare il nostro corso gratuito ragazzi nemmeno a dirlo nella forza c'è il bilanciere sono due una tecnica di sollevamento olimpionica tra l'altro quindi tecniche difficili da imparare e vanno ripetute giorno per giorno la tecnica va curata molto nel dettaglio quindi qualsiasi informazione vi scrivi sotto continua ci vediamo al workout ciao l'idea invece di questo workout finale è cercare di fare 4 esercizi for time quindi nel minor tempo possibile gli altri quattro che vedi l'idea di non fermarsi quindi prova a fare 4 giri senza fermarti mi raccomando allenati bene a domani ciao iscriviti al canale